Ciao a tutti, eccoci a questo nuovo tutorial che è la naturale prosecuzione del tutorial precedente in cui abbiamo mostrato il meccanismo per ottenere un piano di campionamento singolo cioè partendo da un'etichetta del piano di campionamento identificata dai suoi 5 parametri che lo ripetiamo sono la QL nominale, il livello, l'option, il type e la load size abbiamo ottenuto quello che è appunto il suo output ovvero i valori di N, AC e RJ che abbiamo già chiamato triade e che appunto ci dicono quello che dobbiamo fare, cioè quanti campioni prelevare e una volta testati sulla base dei criteri di accettazione cioè AC ed RJ accetta e scarta sappiamo se il piano di campionamento è superato o meno oggi non faremo altro che ripetere lo stesso esercizio adottando gli stessi meccanismi della ISO però lavorando su un piano di campionamento doppio e allora possiamo andare alla nostra presentazione PowerPoint che appunto si chiama ISO 2859-1 come funziona e della seconda parte perché il tutorial precedente era la prima parte e appunto dobbiamo capire il meccanismo della norma ISO 2859-1 applicato a un piano di campionamento double che nel nostro caso specifico risulta essere QL 025 L2 quindi il livello è l'L2 double quindi il type è un piano di campionamento doppio l'option è normale e la load size va da 3.201 a 10.000 unità nel secondo tutorial di questa playlist avevamo proprio già incontrato questo piano di campionamento e quindi sappiamo già quali sono gli output ovvero questi valori di NAC e RJ che vengono ripetuti due volte quindi c'è una prima triade etichettata col pedice 1 e c'è una seconda triade etichettata col pedice 2 perché? Perché è un piano di campionamento doppio e quindi i piedi di campionamento doppio non hanno una triade di valori ma hanno due triade di valori perché si compongono di due step di campionamento che non sono sempre applicabili il primo si fa sempre il secondo non è detto ma questo l'abbiamo già visto in uno dei tutorial precedenti quindi per ripetere lo stesso ragionamento ritorniamo a pagina 19 della norma nella versione inglese e reincontriamo la table 1 che è quella tabella che avevamo già visto essere quella che ci rappresenta sia la load size nella prima colonna di sinistra ovviamente questa tabella è un estratto di quella che trovate sulla ISO e quindi non trovate tutti i tagli del lotto che sono 15 ne trovate rappresentati solo alcuni quelli che non trovate rappresentati sono identificati con dei puntini e poi dalla seconda colonna a sinistra fino all'ultima colonna a destra sono rappresentati i possibili livelli incrociando il valore di load size e il valore del livello troveremo appunto la nostra codeletter applicando quindi i due valori di questi primi due parametri che risultano essere la load size e il livello che li vedete qui in rosso per il nostro piano di campionamento doppio dalla sua etichetta troviamo che la load size vada 3.201 a 10.000 e il livello è L2 quindi andiamole a incrociare sulla tabella e troviamo la lettera L niente di più facile appunto perché è in corrispondenza del livello L2 e della load size da 3.201 a 10.000 a questo punto se vi ricordate il meccanismo prevedeva appunto di scegliere una seconda tabella e la norma ne propone 9 quale tabella scegliere? beh è semplice questa tabella da scegliere si ricava da questa ulteriore tabella che non trovate nella norma perché l'ho fatta io per comodità e diciamo incrociando gli altri due parametri con i rispettivi valori che sono indicati nell'etichetta del piano di campionamento possiamo scoprire quale è la tabella che dovremmo utilizzare come secondo step del meccanismo e allora dobbiamo concentrarci appunto su questi due parametri che sono il type e l'option e sappiamo che il type è double e viene rappresentato in rosso il type il valore del type del nostro piano di campionamento della nostra etichetta e l'option è normal quindi è normale e quindi dobbiamo incrociare i due valori double e normal se incrociamo i due valori double e normal su questa tabella otteniamo facilmente che la tabella che dobbiamo scegliere per seconda nel meccanismo è la 3A mentre nel tutorial precedente se vi ricordate era la 2A e quindi andiamo a vedere la tabella 3A beh in particolare ne vediamo solo una porzione ok perché la tabella è molto più estesa sulla norma prevede tutte le possibili code letter tutte le possibili sample size tutti i possibili AQL come valori nominali ma l'importante è che qui ci siano quelli di nostro interesse ovvero la code letter L e la QL nominale 025 quindi andiamo avanti e vediamo appunto che se prendiamo gli ultimi due valori della nostra etichetta che rappresenta il piano di campionamento in questione abbiamo la code letter L e la QL 025 nominale che sono rappresentate in rosso per comodità quindi niente di più facile che incrociare questi due valori la code letter L e la L la QL 025 si ottiene una sample size in due step appunto quindi allo step 1 del piano di campionamento doppio quindi il primo piano di campionamento che si va a effettuare è N125 il secondo step del piano di campionamento doppio è ancora N125 i due valori accept e reject number sono 0,2 e 1,2 per riassumere si ottiene esattamente quello che avevamo ottenuto in un tutorial precedente ovvero il suo output due triadi ok eccole qui rappresentate la prima data da N1 uguale 125 perché avevamo visto appunto che dalla tabella il primo valore di N era 125 i valori del primo step quindi col pedice 1 accetta 1 uguale 0 e scarta 1 uguale 2 viceversa per il secondo step del piano di campionamento doppio N2 era 125 accetta 2 era uguale a 1 e scarta 2 era uguale a 2 e quindi abbiamo ottenuto esattamente quello che avevamo già anticipato nel precedente tutorial e quindi il piano di campionamento doppio prevede due triadi perché io devo avere una prima triade per poter decidere nel primo step se passo o se non passo o se devo andare al secondo step del piano di campionamento nel secondo step del piano di campionamento devo necessariamente fermarmi a avere due numeri consecutivi e infatti abbiamo proprio due numeri consecutivi accetta 2 uguale 1 scarta 2 uguale 2 ma se noi torniamo un attimo indietro alla tabella 3A che abbiamo appena visto vedrete che tutti questi valori ok tutti i valori dei criteri di accettazione sono doppi appunto perché questa tabella riguarda i piani di campionamento doppio ma notate come il primo valore non abbia mai due numeri consecutivi in questo caso era 0,2 ma se guardate questa cella a 0,3 in questa cella a 1,3 i numeri non sono consecutivi guardate questa cella a 3,6 i numeri accetta e scarta non sono consecutivi ma se guardate il secondo valore della cella ha sempre due numeri interi e consecutivi nel nostro caso 1,2 nella cella di fianco 3,4 in questa cella ancora 3,4 in questa cella 4,5 questo perché appunto è una tabella che riguarda i piani di campionamento doppio e quindi di conseguenza ci si deve fermare al secondo step e quindi di conseguenza la seconda triade del piano di campionamento doppio deve sempre avere gli accept legend numbers come numeri interi e consecutivi per potersi fermare e prendere quindi una decisione ma torniamo velocemente alla nostra presentazione e andiamo ad esplorare un ultimo aspetto di questo meccanismo che avevamo visto un po' nei tutorial precedenti cioè che se guardiamo la tabella 3A quella che vi ho rappresentato nelle slide precedenti era un estratto questa è diciamo la tabella nella sua interezza come la trovereste nella ISO 2859 trattino 1 e si vede dal quadratino rosso che è rappresentato qui che si può arrivare fino alla QL1000 ebbene nel secondo tutorial ma anche nel tutorial precedente di questa playlist avevamo visto sempre rappresentati gli AQL che andavano da 0,01 fino alla QL10 e avevo detto che gli AQL possibili da scegliere erano 16 infatti se li contate questi valori da qui a qui sono 16 ma sono di più in realtà se uno guarda la tabella 3A vede anche la QL15 la QL25 la QL40 fino alla QL1000 perché non sono stati presi in considerazione nei tutorial precedenti bene andiamolo ad esplorare le tabelle come la 3A che è quella precedente ma anche come la 2A quella che abbiamo visto nel tutorial precedente possono essere lette con una diversa interpretazione cioè con una doppia interpretazione da QL001 ad AQL10 che sono quei valori nominali di AQL che avevo messo nelle tabelle dei due precedenti tutorial e avevo detto di considerare solo quei valori nominali di AQL sono quei valori di AQL nominali per i quali si ragiona in termini di percent non conformi in items che è stato il ragionamento che abbiamo sempre seguito finora cioè il fatto di dire io quando prelevo un certo numero di campioni prelevo N50 N100 da un lotto di 1000 10.000 pezzi testerò questi 50 campioni questi 100 campioni che ho prelevato e in base all'esito del test giudicherò se questo specifico campione che ho prelevato passa o non passa il test cioè giudicherò il campione come unità buona o unità difettiva indipendentemente dal numero di difetti intrinseci che c'è all'interno cioè per esempio parlando di una mela la mela senza baccature è una mela buona la mela con le baccature è una mela difettosa ma che ne abbia una di baccature 2, 5 o 10 non mi interessa è sempre difettosa e questo è il ragionamento che abbiamo sempre seguito finora che si applica dagli AQL nominali 001 fino alla QL 10 ma dalla QL 10 fino alla QL 1000 si ragiona solo invece in un'altra diciamo modalità la modalità dei non conformities ogni 100 items cioè un modo diverso di ragionare non si ragiona più nei termini di l'unità è buona o difettosa ma si ragiona di quanti difetti ci sono all'interno dell'unità difettosa e si contano tutti si sommano tutti allora se ritorniamo alla nostra tabella 3A nella sua estensione come la trovereste nella ISO e guardiamogli a quelle che vanno dal 10 al 1000 ecco non bisogna più ragionare in termini di per sé non conformity ma bisogna ragionare in termini di non conformity ogni 100 items qui lo vedete rappresentato meglio con i quadratini rossi se sempre con la tabella 3A guardiamo la QL 1000 che è il più grosso in assoluto non ce n'è uno superiore a questo che si intende poi tra l'altro sapete che più la QL è grosso parlando di percentuali di scarto comunque meno è protettivo il piano di campionamento perché ammette un numero di percentuali di scarto superiore la QL 1000 ammettendo di avere la codeletter B allora noi otterremmo un criterio di accettazione con chiaramente due valori due set di valori perché la tabella 3A l'abbiamo detto riguarda i piani di campionamento doppio quindi sarebbe il primo step accetta 25 scarta 31 quindi due numeri non consecutivi il secondo step accetta 56 scarta 57 due numeri interi consecutivi sono valori molto alti ma solo in corrispondenza di cosa? di una sample size due campioni al primo piano di campionamento due campioni al secondo piano di campionamento beh lo vedete subito che ci sembra esserci una contraddizione intrinseca ma se io ragionassi nella modalità dei non conformi percent items quindi se ragionassi in termini di unità difettive beh non sarebbe possibile considerandoli nella loro totalità avere campionato tra il primo e il secondo step quattro unità difettive c'è quattro unità e il massimo che posso averne è quattro difettive e però il criterio di accettazione nel secondo step mi dice che fino a 56 unità difettive posso accettare ma non è possibile cioè perché ammetterei fino a 56 unità difettive se al massimo ne posso prelevare quattro ma perché non si ragiona in termini di non conformi percent items si ragiona in termini di non conformities per 100 items e quindi non bisogna andare a considerare se l'unità è difettiva o meno ma bisogna andare a considerare quanti difetti ci sono all'interno della singola unità difettiva e allora bisogna ragionare secondo questa nuova modalità qui in questa slide c'è semplicemente scritto quello che ho appena spiegato ovvero che se la letter code è la B e la quale è scelto è 1000 appunto si ottiene questo piano di campionamento con queste due 3D che ho appena spiegato ma come lo si può sviluppare come lo si può rendere diciamo esemplificabile con un esempio molto semplice ritorniamo all'esempio della macchinetta del caffè a cialde se vi ricordate nei tutorial precedenti quando avevo fatto l'esempio della macchinetta del caffè questa poteva essere difettosa per vari motivi noi avevamo sempre ragionato in termini di percent non conformi in items quindi unità buone unità difettive abbiamo sempre ragionato così fino a questo momento che sto spiegando questo specifico caso e cosa avevamo fatto avevamo separato le categorie di difetto avevamo detto funziona bene non funziona bene ha estetismi non ha inestetismi si prende la scossa non si prende la scossa e via dicendo ma anche nel caso della specifica categoria di difetti cioè la presenza di inestetismi noi non contavamo non avremmo contato quanti inestetismi c'erano sulla scocca di ogni macchinetta avremmo contato semplicemente se ne aveva era difettiva se non ne aveva era buona e quindi avremmo ragionato in termini di defective unit ma se noi invece ragioniamo in termini di non conformity per 100 items ebbè allora bisogna contare tutti i difetti per ogni macchinetta campionata in questo caso se applichiamo la QL1000 con la code letter B dobbiamo campionare due macchinette del caffè al primo step ebbene una macchinetta del caffè una delle due che facesse prendere la scossa abbiamo già un difetto che non funzionasse quando si inserisce la cialda abbiamo già due difetti che avesse tra i graffi abbiamo già cinque difetti e due macchie abbiamo già sette difetti ecco avremmo considerato sicuramente la macchinetta del caffè un'unità difettosa ma all'interno di quell'unità difettosa lì ci sarebbero sette non conformità campionando la seconda macchinetta pure questa difettosa ammettendo che pure questa si comporti come la prima quindi che anche questa abbia sette non conformità in totale tra due macchinette campionate al primo step avremmo quattordici non conformità e la QL1000 ci dice che al primo step si passa con accetta 1 uguale 25 quindi si passerebbe è chiaro che uno dice ma come sette difetti sulla prima macchinetta sette difetti sulla seconda macchinetta si passa beh sì si passa perché stiamo scegliendo la QL1000 se avessimo scelto la QL15 la QL25 o via dicendo sicuramente i criteri di diaccettazione sarebbero stati più stringenti e forse non si sarebbe passati ma questo era un esempio semplicemente per far capire come i numeri esplodono cioè io campiono due macchinette del caffè ma posso avere l'accetta 1 uguale a 25 e uno dice ma come è possibile avere 25 unità difettose ammissibili quando ne posso campionare al massimo due no non è così si campionano due e si conta tutti i difetti che ci sono all'interno di quelle due in questo caso abbiamo visto che erano 14 si passava comunque perché la QL è poco severo e la QL1000 è quello meno severo in assoluto ma si capisce con questo esempio proprio la diversa prospettiva quindi con la QL da 001 alla QL10 si ragiona in termini di unità difettive la QL10 è un po' una via di mezzo è l'ultimo in cui si può ragionare sia in un modo che nell'altro dalla QL15 alla QL1000 si ragiona in questo secondo modo cari amici questo tutorial finisce qui oltre agli immancabili ringraziamenti sempre per le nuove iscrizioni che sto avendo e che mi fanno sempre molto piacere vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo tutorial e vi anticipo che con il prossimo tutorial chiuderemo questa playlist sulla ISO 2859-1 facendo degli esercizi con Sample In Plan Analyzer Sample In Plan Analyzer è un software che ci permette di non usare le tabelle della ISO molto semplice molto user friendly e vedrete che ci divertiremo ciao a tutti di nuovo grazie di essere stati con me e vi aspetto al prossimo tutorial ciao a presto